la signora adesso vi leggerò una poesia è una cosa diversa dal cabaret ma mi piace farla si chiama la poesia intitolata in certi momenti ci sono momenti della vita che non si possono spiegare bisogna viverli bisogna entrare dentro in certi momenti che stimoli in certi momenti ci sono momenti della vita che tutte le strade sono inaccessibili a te tutte le porte più care sono chiuse per te e allora tu vorresti bussare a quella porta anzi no spondarla ma non puoi quindi trattieni il respiro stringi i denti è dura ti sforzi ma è dura e allora piangi ma ti senti osservato assumi un'aria disinvolta ed intanto senti la vita scendere giù 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 sempre più giù in certi momenti tutto si scioglie per fermare quella pura follia che cresce dentro di te cerca un posto dove sederti e aspettare e aspettare ma si può aspettare quando una furia improvvisa ti coinvolge in tutte le membra e tu dici più di così più di così più di così più di così si muore se solo io potessi raggiungerti no non ti conviene e dici che tutto ciò che dirò è fantasia ma vuole fantasia pure la verità mi sto cagando a tutto allora ti dirò dimmi molla tutto si e grida al mondo che sei stufo si sono stufo e io ti chiederò l'hai fatto l'ho fatta l'ho fatta l'ho fatta l'ho fatta l'ho fatta non è rimasto più niente e certi momenti si sentono e come si sentono